Ben trovati da Alessandra Leardini della redazione del settimanale Il Ponte al consueto appuntamento con la rassegna stampa dedicata al nuovo numero del giornale in edicola da giovedì 29 agosto. Prima pagina dedicata alla scuola, infatti il 16 settembre torna a suonare la campanella e saranno più di 46 mila gli studenti del territorio alle prese appunto con il rientro. Le vacanze sono quindi agli sgoccioli e ci sono diverse novità in arrivo per il nuovo anno scolastico. Il Ponte ne ricorda alcuni. Lunedì 16 settembre appunto ci sarà la fatidica prima campanella. Andiamo a leggere il richiamo in prima pagina con tante novità. In provincia i numeri delle matricole sono in costante aumento. Per la prima volta arriva sui banchi anche lo studio del cinese, mentre a Morciano partirà l'indirizzo agricolo. Si parla ovviamente di scuole superiori. Rimane però il problema degli spazi. Stiamo lavorando per sistemare tutte le situazioni in sospeso. Sottolinea l'assessore provinciale alla scuola Meris Soldati. Andremo poi ad approfondire questa notizia. Nell'editoriale si parla del tema caldo dell'estate 2013, l'abusivismo. L'illegalità non ha stagioni, titola l'editoriale a firma di Paolo Guiducci. Andiamo a leggere alcune righe perché poi vedremo il Ponte lancia anche un'interessante proposta a questo territorio. Se il problema di Rimini e della Riviera è rappresentato dagli abusivi, allora c'è veramente di che preoccuparsi, scrive il Ponte. Chiariamolo subito, l'abusivismo commerciale da chiunque venga commesso è reato, un'illegalità da combattere. Ma la contraffazione e il commercio improprio non sono un fenomeno esclusivo riminese, nonostante nella capitale del turismo balneare si accompagna ad un evidente problema di immagine. Nel Ponte si chiede poi dove prendono la merce i cosiddetti Vucumpra? Siamo in presenza di vere e proprie organizzazioni? Alla fine rilancia una proposta. Prefetto, questore, presidente della provincia, sindaco, bagnini, vigilantes e rappresentanti dei commercianti e dei Vucumpra, vi invitiamo tutti attorno ad un tavolo presso la nostra sede per un forum sull'abusivismo, senza isterie, con sano realismo, perché l'abusivismo non sia più l'emergenza estiva di una città e del suo territorio. Vedremo poi come si evolverà questa proposta. E poi andiamo a leggere sempre in prima pagina alcuni dei temi importanti per la vita della Chiesa, si parla della festa, delle parrocchie, il volto comunitario, poi il fatto, evasione fiscale, Rimini non ha nulla da dichiarare, la malattia, vacanze finite, ecco la sindrome da rientro, e poi sport al via, ricomincia infatti anche la nuova stagione delle squadre riminesi, calcio, domenica si dovrebbe partire, salvo sciopero. Andiamo allora a leggere alcune pagine interne, alcuni spunti, per la vita della Chiesa si parla appunto delle feste parrocchiali, questa è una stagione, un periodo particolarmente attivo. Allora abbiamo intervistato a questo proposito sia il vicario per la pastorale della diocesi di Rimini, Don Tarcisio Giungi, che sottolinea gli elementi della festa si rincorrono, ma è sempre una preziosa occasione per annunciare il Vangelo, ossia il vicario generale della diocesi di Rimini, Don Luigi, Monsignor Luigi Ricci, che parla della dimensione religiosa di queste feste, sempre al centro. La festa infatti afferma è un'occasione per ripartire di slancio, risaldare rapporti più umani, incontrare i più bisognosi, muoversi sempre nella completa legalità. Cambiamo argomento, si parla di evasione fiscale su questo numero del settimanale Il Ponte, si prende spunto dallo studio del sole 24 ore che dà a Rimini il triste primato regionale di territorio con maggior rischio evasione. Analizzato lo scarto tra redditi dichiarati e stili di vita, il presidente della provincia Stefano Vitali parla di figuraccia. E allora abbiamo approfondito a questo proposito anche i primi frutti dell'accordo tra Comuni e Agenzia delle Entrate per il recupero dell'evaso. Al 31 dicembre 2012, sottolinea Il Ponte, riprendendo i dati dell'Agenzia delle Entrate, nella provincia di Rimini, sono stati recuperati 920.335 euro, di cui oltre i 720.000 solo nel Comune di Rimini. Ma c'è anche una curiosità e non mancano le problematiche. Infatti dal Comune di Misano sottolineano che non è stato recuperato nulla semplicemente perché non è stata fatta nessuna segnalazione. Abbiamo saputo, parla in questo caso il dirigente Fabrizio Bernardi, che le piccole segnalazioni l'Agenzia delle Entrate non le prendeva in considerazione. Allora non ne abbiamo fatte perché di grandi non ne avevamo. Cambiamo argomento, si parla anche di scuola, dicevamo. Allora andiamo ad approfondire i contenuti di questa inchiesta. Alcune delle principali novità del nuovo anno scolastico. La notizia più positiva a parlare è il dirigente scolastico provinciale Agostina Melucci e l'aumento di 74 posti per gli insegnanti. E poi cambiano anche le scelte delle famiglie riminesi che propendono sempre di più per gli indirizzi tecnici e professionali, cioè quelli direttamente spendibili sul mercato del lavoro. Fa il suo debutto anche il cinese tra le lingue studiate alle superiori, in particolare al liceo Cesare Valgimigli di Rimini e all'istituto turistico Marco Polo, sempre a Rimini. E poi c'è il solito problema con cui fare i conti, quello dell'edilizia scolastica. Gli spazi infatti sono sempre troppo stretti. In questa intervista l'assessore provinciale Meris Soldati insomma parla di quelli che sono gli impegni della provincia per risolvere questo problema. Sindrome da rientro, infatti bisogna fare i conti in questo periodo anche con il rientro dalle vacanze per la maggior parte dei riminesi e allora riprendere la solita routine può creare problemi. Abbiamo intervistato una psicologa riminese che parla di emicrania, ansia, nervosismo, difficoltà nel dormire come sintomi molto chiari di questa sindrome. Ci sono alcuni accorgimenti però da adottare per limitare la frustrazione. Un altro problema è quello dei bambini anche loro infatti possono risentire di questo tipo di disturbo. Andiamo ora a dare un'occhiata alle pagine della vita della Chiesa fra i tanti argomenti. Scegliamo l'intervista che Don Giampaolo Rocchi ha fatto al responsabile della zona Cile della comunità Papa Giovanni XXIII, Gianni Casadei. Spiega che in Cile si occupano specialmente di bambini violati nei loro diritti, abbandonati o che hanno genitori tossicodipendenti, criminali o poveri che non possono occuparsi dei loro figli. Il 14% delle persone vive in povertà e dal 2 all'8% in estrema povertà nelle periferie della città. Proprio quello delle periferie è un tema molto caro a Papa Francesco ed è il tema che verrà approfondito nella prossima edizione del meeting. Quella appena conclusa invece è questo numero del ponte, ha dedicato due pagine, si parla dei tanti argomenti che sono emersi, si fa un bilancio di questa edizione fra i temi più approfonditi, quello dei cristiani perseguitati nel mondo, quello dei poveri, ma non poteva mancare anche qui un accenno alla polemica che corre sul blog, la frase che ha suscitato molte polemiche anche in terra riminese di Beppe Grillo su comunione e disperazione, come ha lui detto, ecco Rimini ha risposto in coro attaccando duramente questa uscita del leader del Movimento 5 Stelle. Si parla di un'edizione culturale importantissima del nostro territorio appena conclusa, di un'altra invece che sta per arrivare a Riccione dal 4 all'8 settembre e torna al premio giornalistico televisivo Ilaria Alpi. Abbiamo ricordato alcuni ospiti di spicco di questa edizione, dal ministro dell'integrazione Chienge ad alcuni dei più affermati giornalisti sul piano nazionale, come Corrado Formigli, Gad Lerner, ma poi ci sarà anche per la politica Deborah Serracchiani che parlerà proprio di un dibattito sullo stato della politica attuale. Ci sono altri nomi come Concita De Gregorio, Milena Gabanelli, sempre importanti sul piano giornalistico nazionale. Si parlerà di mafie balneari in un approfondimento ad hoc di questa edizione, ma come sempre riflettori puntati specialmente sul caso Alpi Rovatin relativo al duplice omicidio avvenuto nel 1994, ancora oggi senza risposta. Nei minuti che restano andiamo a dare un'occhiata invece alle pagine della nostra provincia. Partiamo da Cattolica, quante polemiche sulla nuova viabilità, titola al ponte. Si parla dei cambiamenti nelle strade cattolichine e delle critiche arrivate dalle categorie economiche che dicono troppo traffico, il sindaco risponde meno incidenti. A Rizzoni invece, attenzione puntata sul problema della sicurezza, in particolare al Marano. Si fermino le danze e il ponte riprende l'argomento caldo di questa estate che ha visto cinque provvedimenti per quattro locali del Marano che rimarranno chiusi per 24 ore e per il cocorico che dovrà tenere le luci spente per ben tre settimane. Nella pagina dell'uso Valmarecchia, sottolineiamo giusto una notizia che arriva da Bellaria dove dal 28 agosto all'8 settembre torna la festa dell'ANSPI, l'Associazione Nazionale San Paolo Italia, all'oratorio in festa, 2.500 atleti in 12 giornate, più i tanti accompagnatori e il turismo bellariese di fine stagione torna a sorridere. In Valmarecchia invece acqua e fango, strade come fiumi. Si fa un bilancio degli ultimi temporali per quello che riguarda i danni. Ricordiamo poi tanto spazio riservato anche allo sport locale, visto che riprende la stagione del calcio soprattutto. E poi ricordiamo che osserveremo la prossima settimana ancora un periodo di ferie e quindi torneremo in edicola fra due settimane, più precisamente il 12 settembre. Per quanto riguarda questo numero del ponte, abbiamo illustrato i principali contenuti, l'appuntamento è fra due settimane. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento d'ascolto. Grazie a tutti.